la sedia la vedi la differenza antonio e non vedo un cazzo non è che non vedo la differenza e mi gira verso di me chi no e come faccio a girare verso di me e non fai quello che questo no e allora cominciano falla a calizzare da qualcuno